Per quanto riguarda la sanità, il Lazio era la pecora nera d'Italia, aveva il più alto disavanzo pubblico economico e i più bassi livelli di qualità delle cure. Da oggi il Lazio ha vinto la grande battaglia e siamo fuori dal commissariamento. I conti sono in ordine e la qualità delle cure finalmente è quella che richiede lo Stato. Grazie a una grande squadra e a un riformismo che cambia le cose e in questo caso l'ha cambiata nel modo giusto. Ed è il nostro regalo a un'Italia che deve ritrovare la fiducia e rimendere a camminare, anzi a correre. Grazie, buon lavoro.